Allora, io credo che dopo un attimo di difficoltà ormai sia stato chiarito qual è il percorso, quindi secondo me la collaborazione tra il governo e la regione comunque procederà stabilmente. Già ieri era comunque stato chiarito che chi under 60 avesse avuto prima la strazeneca e avesse compiuto i famosi 80 giorni dal vaccino poteva già accedere a Pfizer, quindi in realtà si è recuperato facilmente, le dosi ci sono, quindi secondo me non ci saranno dei rallentamenti ma si procederà velocemente. E poi si sta montando l'interesse di tutti a vaccinarsi, che è un elemento fondamentale, ora bisognerà recuperare un attimo con le farmacie che erano prima state tarate su Johnson & Johnson, adesso dovranno essere riorganizzate, ma anche qui l'unità di crisi regionale darà una risposta velocissima, quindi io credo che procederemo senza intuppi.